All'arrizzo è il Garnes, è la dominica leader, proprietario del testi del Mühler. Si tenga pronta la testiera 5 a seguire la 19. La domanda che si segue, cioè prima del gioco dei cadenze, su quale tempo avevano giocato il gioco di cadenze in questo gioco? All'arrizzo è il Garnes, è il Garnes. All'arrizzo è il Garnes, è il Garnes. All'arrizzo 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 è il Garnes.